La nostra presenza qua nel franchising della Fiera di Milano è data tanto per quanto riguarda la nostra struttura che è improntata a una realizzazione di nuovi servizi. La nostra missione, comunque il nostro franchising è improntata su determinati servizi a recuperare e ricalcolare quelle che sono le irregolarità e gli interessi non dovuti da parte degli istituti bancari a favore dei nostri clienti che sono privati e anche imprenditori di piccole, medie e grandi imprese. Allora il franchising dei nostri sogni è intraprendere un cammino insieme a persone determinate, soprattutto professionali e competenti all'interno di questo tipo di materia.